Truffa ai danni dello Stato e peculato sono le accuse di cui dovrà rispondere un dirigente medico dell'ospedale di Saronno. Nello specifico, il primario di ginecologia avrebbe effettuato degli esami su almeno 60 pazienti percependo soldi in nero in strutture esterne dall'ospedale. E questo, nonostante il professionista, continuasse a percepire le 1.800 euro di indennità mensile a compenso di prestazioni da svolgersi unicamente nella struttura pubblica. La Guardia di Finanza ha già sequestrato al medico 70.000 euro, cifra che secondo gli inquirenti corrisponderebbe al profitto illecitamente acquisito. L'accusa di aver guadagnato senza rilasciare alcuna ricevuta fiscale, quindi il mancato rimborso regionale all'ospedale pubblico, comporta anche il reato di danno erariale, mentre il quadro accusatorio complessivo ha fatto scattare l'interdizione del soggetto dall'esercizio della professione medica.